Leggiamo qui nel programma del candidato sindaco Paolo Vendramini alcune cose che, a essere onesti, fanno rabbrividire la pelle, non perché siano scritte cose sbagliate, e sono le stesse cose che ci propinano da 50-60 anni. Loro hanno ragione, siamo noi i fessi. Su questi sette punti ne prendo uno a caso. La democrazia intesa come inclusione dei cittadini nella formazione e nell'attuazione delle decisioni. Ma nessuno si è mai accorto che il cittadino in assoluto non conta niente. Tutto al più conta l'elettorato di riferimento. Forse per quelli il candidato sindaco si esprime così. Anche perché si parla di democrazia, ma se un consigliere comunale di minoranza non conta una mazza a definire gli orientamenti delle scelte politiche e amministrative del Comune, come si fa a dire che questa democrazia include i cittadini nella formazione e nell'attuazione delle decisioni? Ma porca miseria, ma è possibile ancora che noi andiamo dietro a queste stupidate? Conta soltanto il voto e poi l'impegno politico come servizio. È vero, ma non è così, non è così, non è così. L'impegno politico è verso l'elettorato di riferimento, quindi non verso tutti i cittadini, ma verso una parte di cittadini. Allora io dico ai cittadini, ma quando è che ci svegliamo? Quando è che rifiutiamo ad ascoltare queste frasi che ci vengono ripetute ad ogni piesso spinto? Basta! Non diamo la colpa allo Stato o al Governo, la colpa è solo nostra, la colpa è solo nostra.